IMPROSIT è una riunione di famiglia, è un po' una festa a cielo aperto che raccoglie tutto il meglio dell'enogastronomia mondiale e la usa per invadere Pacificamente Udile per quattro giorni e trasformarla davvero in una mostra felice. È una manifestazione molto bella, interessante, vivace, giovane, fresca, molto intrigante. Sono così fortunata ad essere stata invitata fin dalle prime edizioni, quindi più di dieci anni partecipo alla IMPROSIT come ospite. Sono felicissima di come questa manifestazione abbia aiutato la nostra regione ad essere conosciuta in tutti i luoghi del mondo. Quello che cerchiamo di fare in questi giorni durante questa manifestazione è proprio quello, quello di accogliere più persone possibili e di farle stare bene. E quando ci sono influenze da tutte le parti del mondo questo rende la cosa veramente unica e rende questo festival veramente il più bello del mondo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!